Clay, Madame Carla, era una delle peggiori truppatricchi di tutta New Orleans. Imbrugnava la gente dicendo che avrebbero avuto colpura che avessero regalato di Kenal a distrazione di Fabricotto. E dopo qualche giorno si presentava a casa loro con un suo compagno a dire che aveva bisogno di posti. Non dire, era proprio... Dottore, non so come ringraziarti per questa divertente cena. È stato un piacere per me. Piacere è tutto mio. E ricordati una cosa, dottore, domani cena al club avrai il miglior posto del...